You think you know me? Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video, in realtà in un recap perché l'abbiamo fatto ieri questo video, ma oggi la patch era un po' diversa da quella che avevano scritto ieri, ma da lato meno male perché la novità è grossa. A me ci sono Pala e Dario, ciao ragazzi, velocemente, il banner è figo, ci sono Alon e Pandora Commander, allora Alon è un ex, quindi Dario prego spiegazione rapida. Non potete recuperarlo, quindi non vi serve questo banner. Mi piace, Pandora Commander è un PG che costa a livello non tanto di Tomy, perché di Tomy Pala aveva fatto un'analisi su 18? No, 11, 1, 5, 1, 2 e via. Però, come dice Dario, in un account whale o già ce l'avete o comunque è una gara di speed. Per farvi un esempio pratico, questa è la mia Pandora Commander, ora è vero che io stremizzo sempre le cose, nel senso che quando succede poi evito di farlo. Questa è la mia, per me è lenta perché già Pala è più veloce di me, quindi insomma, non la gioco, la banno, rip. Comunque ora, con Doku DC skillato si può fare un IC molto speed data, una Pandora Commander modesta e parte subito e funziona. Quindi per il PvE tra l'altro è piuttosto forte, per fare gli Athena Trial o anche altre cose, tranne che per i boss, ma per passare schemi difficili o anche i manga è molto interessante. Quindi se magari mancano poche shard, pensate di fare qualche pull. Partendo da zero, non lo so. Se mai fermatevi comunque sul centinaio massimo, 80 massimo, perché? Perché lo vedrete tra poco. Prima però, parliamo un attimo di Huawei, perché Huawei oggi, tramite ovviamente AppGallery, potete trovare le promozioni che iniziano per Halloween. Ovviamente ci sono quelle un po' specifiche per Sensei e quelle un po' più generiche anche per altre cose. Per quanto riguarda Sensei, avete il 5% di cashback attivo per tutto quanto del mese, per ogni acquisto che farete in game. Quindi qualcosina vi torna, anche se volete comprare qualcosina, visto che hanno messo il Pandora Mall, mi pare, no? Visto male prima? Sì, c'è Pandora Mall. A sorpresa tra l'altro, mi era annunciato. Una delle cose che si sono dimenticati di dire ieri, grandissimi. Poi qui sotto in descrizione e sui post, sui social, troverete il codice promozionale di Huawei nostro, ovviamente. Quindi lì potete collegarvi direttamente dal link che lascerò qua sotto, oppure sotto i post che fa Pala. In più, ci sono dei coupon. Pala, prego, perché è un casino la spiegazione. Allora, se andate a quel link, aprirete l'evento di Halloween. Praticamente si possono fare fino a 50 punti caramella, 20 facendo share ad altri utenti che usano App Gallery, facendogli aprire il link, e 30 scaricando giochi app che vi consiglia questo concorso. Prendendo queste caramelle potete scambiare poi per tre coupon sconto che potete usare su tutti i giochi e le app di App Gallery, che sono comunque buoni, 2 euro, 5 euro, 10 euro. Sono limitati a uno e valgono per due settimane da quando li reclamate, quindi anche occhio a quando li reclamate, però vi fa risparmiare un bel po'. Molto occhio in vista di settimana prossima. Sì, e nel concorso ci sono anche sconti per altre applicazioni o servizi e un'estrazione fortunata. Si possono vincere dei device Huawei, un P40 mi sembra, tra le altre cose. E niente, è una specie di ruota della fortuna. Io vi consiglio di fare questo evento, di scaricare le app, di reclamare i punti, di reclamare questi coupon quando vi servono o verso la fine della promozione, che dura mi sembra fino al 7. Eh sì, questa cosa era molto Halloween, ma dovevo silenziare il telefono. Però guarda, c'era perfetta, eh. Eh, fantastico. Questa è Midna di Twilight Princess. Comunque, chiusa questa parentesi. Vi consiglio quindi di reclamare questi coupon, i punti che avanzano di tentare l'estrazione fortunata, che magari vincete qualcosa di molto molto carino. Insomma, una cosa gratis, provatela, che non si sa mai come va a finire. Sempre quello, eh. Tornando invece alla nostra cara patch, che non era scritta. Allora, prima di tutto, quel Wheel of the Stars, state tranquilli, si è solo riattivata la notifica di quando l'ho sbloccato, e non hanno messo la season nuova. Partiamo da questo, che oggi ho letto un panico generale di gente terrificante. Non c'è la season nuova, è solamente riattivato, non si sa perché. Allora, la season nuova è imminente, comunque, perché nel China sono già andati a quella successiva. E quindi, preparatevi. Ci saranno? Allora, in Star Wheel imminente ci saranno Pandora Commander, DC Toro e Iolos, più l'Ikaon, la spettro nuovo che deve uscire. In quella successiva, che è appena uscita nel... Eh, è probabile, sì. Comunque è abbastanza breve. In quella successiva, farà un devasto alle vostre petrine rimanenti, se ve ne avanzano ancora. Però, penso ormai se arrivi tra un mese e mezzo, giù di lì. Ci saranno DC Milo, che per chi l'ha skillato è quasi un full skill. Artomide, uguale. Iacos, vabbè, e Kaiza, poverino, l'ultimo ha dimenticato. Sono ricordati, finalmente. Per il resto, allora, la patch, tocchiamo un attimo quello che c'era scritto ieri, hanno messo la The Seal, che è questo evento qui. Se prendi una figura di catapulta nella partita, ecco, perché non lo farò. Sì, è un Blaze Valley. Credo che si possa spendere prima a Decree 500 coupon per raddoppiare il punteggio che fate. E qua poi sono i point reward, soliti. Sì, i point reward è, boh... Però più o meno è una Blazing Valley un po' più articolata. Sì, queste sono le reward totali che potete avere, insomma. Nulla di che, però, sempre un evento, finalmente. C'è anche un titolo, mi sembra, o un riquadro nuovo per la chat. Comunque, vabbè, cose calice. Lui, lunedì, ci sarà il Fortune Cat, quindi state attenti alle vostre gemme, perché sarà importantissimo farlo. Poi avremo il Season Ranking, che dovrebbe arrivare sempre a Immortal, quindi chi non l'ha fatto... C'è già, Immortal 5. Ah, appunto, immaginavo. Recuperatelo, fatelo tutto, e beneficiatene tutti. Toccando... Vabbè, c'è il Chain of Fate, che, vabbè, è quello del personaggio, che qualche rewardina... Vabbè, aprili così, almeno... Apri il Chain of Fate... È stato molto blando, ormai è sempre quello, da secoli. Sì, in Chain of Fate c'è un trucchetto. Allora, siccome vi può dare della roba abbastanza inutile, voi mettete o un personaggio abbastanza nuovo, o un C, e vi farà sempre sorpreso, e vi darà una cassettina diamanti, che almeno è sicuro che siano utili. Tipo lui. Fate così. Io ho messo DC Doho, è uscito un altro DC Doho, e ha detto sorpreso, ma va. Comunque. E fate questo. Il Q&A diceva che ci aggiungeranno i Cosmic Shrine. Sì. Tempo. Diteci quando. Soon. Eh, stessa cosa alle cose di... di lune. Verrà forse messo uno scambio a diamanti? Sì, ma ci penseremo. Va bene. Sì. E poi hanno di nuovo richiesto i Kia. E i Kia verrà aggiunto in un prossimo update. Anche qui, prossimo. quando non è dovuto sapersi. E la pace finiva qui. Peccato che se andate adesso in gioco, fate PvP, fate Field of Honor, fate Sacred Duel, ma qui c'è un personaggio. Ciao. Dove ce lo dite? Ma scusate. Vai a rating, scusa. Va, va, preparatevi. Ok, niente, piccola. Insomma, cioè, se lo sono dimenticato, la cosa più importante, forse se la sono dimenticata, ricordo che di solito, per questo vi dicevamo, aspettate settimana prossima, quando c'è questo nel Sacred, la settimana dopo c'è nel pullabile. Quindi settimana prossima è probabile, ed è anche concreto, pensare a Shura, e che è molto piacevole. Quindi, pensate anche nell'evento di scambio, di scambiare già le temporane, per, cioè, le Advanced, per le cinque temporane in più. Che è molto probabile, è una scommessa abbastanza buona, diciamo. Ovviamente, di conseguenza, il video che noi questa sera in live, vi lo ricordo, alle 21, analizzeremo Shura, un po' più profondo, perché tanto possiamo perdere, cioè, usare il tempo anche per provarlo nel Sacred, un po' così. Ah, beh, il Sabato, da tipo 24 ore. non so se già faremo un video su Shura, a questo punto, oppure aspettiamo, lo facciamo lunedì, come sempre, all'annuncio del banner. Vedremo, però, perché non sappiamo se poi, la settimana prossima, lo fanno per davvero. Vedremo un po' stasera pure in live, provandolo, se c'è qualcosa di figo, già da portare. Ecco. Insomma, ragazzi, una patch un po' strana, un po' di novità, e io vi invito, e vi ricordo, questa sera sul sito Viola alle 21, vi ricordo di seguire i social, dove Pala mette sempre tutti i link, ed è almeno solo in italiano, e non come parlo io. Direi che per oggi è tutto, e ci possiamo vedere questa sera. Per le novità riguardanti il Games Week, dovrete aspettare ancora un pochino. Appena avremo le novità, proprio di tutto quello che potremo fare, ve lo diremo. Grazie ancora di aver visto questo video, lasciate tanti like, e non fate ispirarci come assolita. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.